ben trovati ben trovati a tutti quanti voi dopo partita ormai già un ricordo quella con la formazione dell'atletico di madrid con la juventus che a mio avviso migliora di gara in gara e che certamente troverà la quadrotura del cerchio man mano si va avanti sicuramente il bilancio dal punto di vista del risultato e dei risultati negativo perché in tre partite con il norimberga con il brest e con l'atletico di madrid la squadra ha subito sette gol ne ha fatto soltanto i due e francamente ha palesato molti disagi soprattutto nel controllo della fase difensiva non tanto in quella della fase offensiva dove tanti schemi vanno leati tante cose ci sono da cambiare sicuramente la squadra ancora corta ma è tutto un via vai di calcio mercato nella quale la juventus sta operando devo dire con molta celerità e con tanta serietà contrariamente quanto si dice fuori e a quanto i nervosetti tifosi della juventus rispettabilmente nervosetti stanno dunque scrivendo sui social e manifestando la propria diciamo il proprio dissenso ad un calcio mercato estivo poco incline secondo tanti a quelle che sono le esigenze della juventus la formazione bianconera praticamente deve registrare bene la difesa bremer non va bene al centro sinistra è un giocatore di centro destra quindi la juventus deve trovare un giocatore di centro sinistra le ultime nelle ultime ore si fa un nome ne parleremo di qui è poco che francamente non va bene per il centro sinistra e quindi mi pare molto strano ma avremo modo di parlarne bisogna anche sostenere che il centrocampo però è un'operazione molto brillante fatta dalla juventus cioè torama che secondo me il miglior giocatore che ha la juventus in senso assoluto douglas luiz che in questo momento sacrificato sulla tre quarti ma che è un giocatore che deve giocare sulla linea mediana bravissimo ha fatto vedere a sprazzi lampi della sua importanza nel centrocampo della juventus il gioco 4 2 3 1 di tiago motta non lo favorisce perché lui un centrale un play nel centrocampo a tre però è evidente che è importantissima la situazione soprattutto in fase offensiva quando bisogna attaccare e propondere quindi è importantissimo poi chiaramente registrare il tutto in nella mediana abbiamo visto un locatelli scarso impresentabile senza ripeto senza nessun requisito per giocare in serie a non è a manco mezzo è un asino in mezzo ai suoni e certamente certamente questa cosa la juventus purtroppo la pagherà perché la vera negazione questo locatelli giocatore scadente giocatore che non può giocare nel campionato di serie a figuriamoci nella juventus poi credo che voi abbia fatto un buon precampionato è uno che a tratti riesce ad essere brillanti ma lì in quella zona del campo sicuramente la juve deve vedere qualcosa ne parleremo di qui a poco mentre è evidente e chiaro che sulla vicenda cup meiners che deve giocare sotto punta si sta orchestrando il mercato proprio per l'arrivo di questo calciatore e il ildiz a mio modesto parere è colui che esploderà esploderà come come l'attaccante del bologna dell'anno scorso anche se ildiz farà sicuramente un altro ruolo ma avete visto copre benissimo quel ruolo copre benissimo quella fetta di campo e riesce a fare il costo costa il migliore dei modi adesso supera pure l'uomo con falicilità sta trovando smalto e forza fisica e atletica giocatorino davvero eccellente questo ildiz che credo tiago motta farà lievitare come tra i migliori giocatori d'europa ma sarà così perché non può essere altrimenti lì è classe pura classe cristallina quello è un talento puro per cui credo che questo è davvero un grande fuoriclasse per la juventus veniamo invece a parlare un po della coperta corta sicuramente la juventus deve fare almeno tre quattro operazioni in entrata anche prendendoli dagli esuberi e spero che milic venga messo fuori venga messo alla porta perché insopportabile avere un calciatore come milic nella rosa della juventus anche perché la juventus deve trovare un vice vlaovic di spessore ecco perché ritengo che kin sia stata una mossa azzardata a venderlo perché poteva benissimo agire come vice vlaovic perché ne ha la potenza ne ha la l'utilità tecnica tattica e bravo quello è un buon calciatore non vedete i numeri degli ultimi anni perché le sue vicissitudini sono state disastrose per effetto di quel tecnico che la juventus aveva sulla panchina e il fuoriclasse giuntoli lo ha cacciato per fortuna per fortuna solo per questo giuntoli va promosso a pieni voti quindi ci sono delle contraddizioni apparentemente va il mercato della juventus in questa stagione rivoluzionaria va giudicato al 31 agosto ve l'ho detto già a più riprese a più prospettive difesa da registrare perché in queste tre partite sono stati prese i sette gol sono troppi ma oltre i sette gol la juventus più volte è stata vicina a capitolare più volte e questo non deve purtroppo essere preso proprio totalmente in considerazione però sono numeri i numeri ci dicono sempre poi la verità va tutto registrato anche con lo scalamento di Douglas Lewis a centrocampo e l'arrivo dei copminers in diciamo solo a tre quarti e qui mi soffermerei sul copminers perché ormai le carte si sono scoperte il gioco è chiaro ed evidente la colpa in questo momento è della juventus e non è dell'atalanta ve la raccontano tutto diversamente perché ho parlato con delle persone vicinissime all'atalanta di cui mi fido totalmente quindi vi prego di credermi come è andata l'atalanta ha avuto la richiesta della juventus per trattare copminers oltre un mese un mese e mezzo fa la juventus si accorda con copminers con i suoi procuratori e poi blocca il mercato l'atalanta è un mese un mese e mezzo che aspetta la juventus per sbloccare la situazione ma questa offerta alla juve all'atalanta della juventus non è mai arrivata la juventus non ha mai fatto l'offerta ma perché perché non aveva i soldi perché ha dovuto deve raccimolare 55 milioni per prendere copminers hanno voluto prendere il giocatore che costa assai allora devono devono recuperare i soldi questo in questo momento la juventus ha 59 milioni di attivo per il mercato per cui molto probabilmente nelle prossime ore l'operazione si sbloccherà chi è andato in maniera impaziente in crisi è stato gasperini il quale ha detto sto giocatore ve lo volete venire a prendere o non ve lo volete venire a prendere perché la juventus ha fatto melina ha perso tempo che non aveva i soldi questa è la verità non aveva raccimolato i soldi per copminers e quando sul difensore ha visto che di poter risparmiare tanto ecco perché non credo io all'offerta per tolibo perciò non la credo quell'offerta io lì c'è stato tutto un gioco per far alzare il prezzo visti i rapporti positivi tra l'annizio e la juventus anche sull'affare turam in pratica in pratica gasperini si è spazientito perché la juventus ha bloccato il mercato dall'atalanta se non si va a prendere a cup mayers già pronto infiocchettato per mandarlo a torino non state a sentire quello che vi dicono gli altri che si è fermato non vuole venire non è vero e la juventus che non è andata e la juventus che non ha i liquidi questa è la verità credetela gasperini ha trovando almeno uno due sostituti per per copminers soprattutto or hill sul quale è appuntato quindi la questione copminers è una questione particolare una questione molto strana e la fer l'ha bloccato la juventus non l'ha bloccato l'atalanta perché l'atalanta è andrà è andata già nella mentalità di doverlo cedere il calciatore tanto è vero che per tenere il passo della juventus il calciatore a manda certificato medico non si allena anche lui fa melina perché la juventus dice aspetta altro po aspetta altro po perché non ha i liquidi siamo in tempi di sostenibilità deve prima vendere e poi deve acquistare e 55 milioni più bonus sono soldi cari amici ecco perché si è perso tempo altrimenti cup mayers da un mese e mezzo già era a torino è molto chiaro molto parese gasperini ha detto momento da ruttiscato venite a prendere su calciatore o no quindi tutto quello che vi raccontano sti questo letamaio vergognoso della piaga sociale no che vi dicono la juventus ha violato l'articolo 16 ma che ha violato l'articolo 16 che è andata dall'atalanta ha detto voglio cup mayers l'atalanta gli ha detto valla a trattare la juve lo va a trattare si accorta per quattro quattro milioni e mezzo all'anno e blocca tutto e quindi l'atalanta va in escandescenza perché dici tu mi hai bloccato il mercato ve lo dovrete apprendere a nostro calciatore poi c'è quindi io credo che a ore si sblocchi questa situazione visto che l'ha resa nota appunto il il l'allenatore della della formazione orobica io non credevo che la juventus sia trattando questo calciatore ho sbagliato come già vi ho detto in altre circostanze la questione nico gonzales mi fa paura mi fa tremare perché nico gonzales è un giocatore della fiorentina è il giocatore della fiorentina portano seccia portano male non sono buoni secondo il mio modesto parere però mi dicono lei la juventus poi con bernardeschi ha vinto ma guarda un po bernardeschi ha tirato ha segnato l'ultimo gol dell'ultimo scudetto della juventus dopo di allora la juventus non ha vinto più scudetti portano e gliela se ne devono andare dispiace solo che chiesa e vlavic sono grandissimi calciatori vlavic è un grande calciatore sta faticando un po nell'entrare nel negli schemi di tiago motta ma ci entrerà ci entrerà per bene ma meno ne acquistiamo da quella squadra alla quale abbiamo versato milioni 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 già hanno fatto il centro gli abbiamo arricchiti la città di razzisti e ancora andiamo a prendere il giocatore la ancora andiamo a prendere il giocatore la mi spaventa nico gonzales fra l'altro non mi scende quel rigore calciato contro la non iscrivibile non mi scende non mi scende non mi scende andate però a vedere come ha tirato il calcio di rigore poi io non so se questo è un calciatore buono non lo so non lo so vedremo anche come si diciamo evolverà la questione di chiesa lì sapete bene la guerra non è con il giocatore la guerra è con il procuratore la juventus e ramadani si odiano che ramadani è uno che agisce quasi in maniera usuraia come diceva nelle intercettazioni che rubini il procuratore di chiesa viene a chiedere soldi e aumenti ogni mese per cui dietro tutta questa vicenda c'è il procuratore c'è ramadani allora perché la juventus aveva fatto la proposta ponte a chiesa perché tutti fai la proposta ponte nel frattempo cambi il procuratore e andiamo a fare un bel contratto poi naturalmente loro si sono messi sulla ventino e quindi ne sta pagando le conseguenze secondo me il calciatore è quello che ne paga le conseguenze a mio modesto parere poi non lo so e la juventus deve acquistare una punta deve acquistare una punta e credo che una volta trovati i soldi per cup miners sicuramente e dico sicuramente non vado lontano dal vero se affermo questo una volta trovati i soldi si chiarirà anche la questione degli epurati molti andranno via alcuni resteranno perché non vi pensate che se riesce a vendere tutti quegli epurati la juventus fa un mercato faraonico con almeno 100 150 milioni di vantaggi in questo momento vi ripeto la juventus è 59 milioni avanti in più rispetto al calciomercato attuale quindi chi parla di giuntoli che sta facendo un mercato molte volte contraddittorio però certamente sicuramente finalizzato ad una serie di operazioni molto interessanti molto intelligenti nelle ultime ore è uscita la notizia solitamente vedete non ne parlo però qui si parla di bilanci e allora la notizia relativa al giocatore del milan calulu calulu chiamatelo come volete che sembra una contraddizione perché tu hai rugani che sicuramente è cento volte meglio di calulu ma che però può fare anche il l'esterno perché io ho capito una cosa tiago motta punta giocatori che possono fare in difesa gli esterni e centrali sta puntando molto a questo tenendosi anche l'opzione cambiaso per il centrocampo ho questa ho questa sensazione è una mia sensazione allora questa diciamo questa notizia di uscita di calulu che può essere una butade anche apparentemente sempre contraddittoria perché la juventus ha in rosa giocatori molto interessanti molto importanti però se il direttore generale della juventus ha detto che si fa un'operazione in ingresso per la difesa allora bisognerà vedere cosa cosa si muoverà probabilmente rugani ancora non si è mosso perché non c'è il centrale in entrata avevo modo però di parlarne questa è la settimana che ci porta al campionato un campionato che nella visione italiana ormai è diventato il campionato con il verme di cui parleremo nei prossimi contenuti perché sapete è un campionato falsato per la presenza della non iscrivibile e del Cagliari per cui credo che questa diceria questa virale frase campionato con il verme ormai la si legge ovunque può essere chiaramente proprio la dettatura giusta per determinate situazioni mi fermo qui mi fermo qui e rinnovo il fatto che intravedo momenti di grande crescita nel gioco della juventus vedrete che piano piano in campionato la squadra lieviterà la squadra si formerà perché con il norimberga hanno giocato pochi titolari con il bresta hanno giocato molti altri titolari contro la formazione dell'atletico madridi hanno giocato ancora nuovi titolari e credo che piano piano ripeto piano piano la squadra migliorerà sempre di più e vi dico una cosa io mi spavento quando nel calcio estivo si vince mi spavento naturalmente non può essere una scusa questa allora sta perdendo la juventus ti vuoi trovare un alibi qualcosa no no mi spaventa vincere d'estate andate a vedere tutti i precampionati quando la juventus non riusciva a vincere poi come è finito il campionato mi fermo qui vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube Sergio Vessicchio ad attivare la camera delle notifiche mettete un like se lo vedrete opportuno iscrivetevi anche alla mia pagina facebook hai il mio profilo instagram e i miei siti di riferimento calcegoal.it tuttoyove.net sempre pronti ad informarvi su tutto alla prossima ciao